Lo sapevate che i Salsedine Studios vogliono fare un film su Waterman e Supervista? Ma non possono fare un film su di noi! Invece sì, essi sono rivolti a degli attori! Realizzeremo un vero film di Waterman e Supervista proprio qui, nella casa di riposo! Dici davvero? Sì, in questo modo rimedieremo al grande affronto che mi hanno fatto i produttori della Salsedine Studios insieme ai loro attori!